Util a Cava dei Tirreni, prodotti e attrezzature per officine per il fai-da-te. Contattaci al 393-9305-256. Novità sulla sparatoria dello scorso 21 ottobre avvenuta dinanzi al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria in Coronata dell'Olmo di Cava dei Tirreni. La procura chiude le indagini sui due protagonisti della roccambolesca vicenda. Entrambi ora sono accusati solamente per lesioni personali. Secondo la procura, nessuno dei due voleva uccidere. Gli indagati, ricordiamo, sono un uomo di 72 anni ed un trentenne. Il primo risponde anche di porto abusivo d'armi. L'episodio che ha sfiorato la tragedia è nato dalla lite tra l'anziano ed il padre del trentenne indagato, un ex infermiere del nosocomio metelliano. Estando alla ricostruzione dei fatti, operata dai carabinieri, l'ex infermiere dell'ospedale cavese avrebbe accompagnato il padre al Santa Maria dell'Olmo per una visita in seguito ad un malore. A quanto pare, il medico non avrebbe concesso all'uomo la possibilità di permanere in corsia ad assistere ad accettamenti cui era stato sottoposto il proprio congiunto. Da qui sarebbe scoppiata una lite. Sul posto era presente anche il padre del dottore, recatosi presso la struttura sanitaria poiché informato di un'aggressione ai danni del figlio. Portatosi nel piazzale antistante il pronto soccorso, nel corso di un acceso confronto, il 72enne ha estratto la pistola, regolarmente detenuta ma abusivamente portata, ed ha esploso due colpi che hanno raggiunto l'ex infermiere agli arti inferiori. Il padre del medico, che inizialmente avrebbe tentato la fuga, è stato inseguito dal figlio dell'individuo cui aveva sparato, e raggiunto nella traversa che conduce in località Toriello, dopo essersi impossessato dell'arma, ha fatto fuoco nei confronti del padre del medico.